Ok, ah ho un proiettile per il fucile, allora qua abbiamo la chiave, questa qua non so se posarla, la chiave scorpione non so neanche se sa posarla, perché io appena poso la roba poi mi serve. Ah si qua sono proiettili, ah della magnum, ah quindi posso posarli perché la magnum non ce l'abbiamo ancora, mi manca la moneta, posiamoli, ok, allora dobbiamo usare questa chiave serpente, ne so dove usarla, dunque ecco qua. Eh ma non puoi però eh, ma non puoi mettermi i mostri appena apro una porta eh, si è, ciao, ciao buonanotte buonasera. E morite. Ok, forse riusciamo a fregarli, spero, 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 anche perché qua sopra sono nei cavoli. Apri, apri, apri sta porta, doi, oh c'è di nuovo la vecchia, chiudi sta porta, io non so se si chiudono, chiuditi. Allora, salve signora, eh, salve signora, io vorrei dell'aiuto. Ah, qualcosa da darmi, due caramelle per curarmi, un qualcosa. Qua il letto si sposta e si vede palesemente, c'è un buco sotto. Apriamo sto coso. Ah, abbiamo trovato un grimaldello, che fanno sempre comodo. Qua. Un'erba, eh ma a me servirebbe del fluido, grazie. Signora, vero che non è nell'armadio? Munizioni del pompa, che lo ricarichiamo. Un orologio. Ah, qua c'è un biglietto. La stessa ora degli altri orologi. È la stessa ora degli altri orologi, ma io non so l'ora degli altri orologi. Però c'è uno qua, quindi noi guardiamo questo orologio. I mostri spero che siano sotto. Sono le 3-10. Sono le 3-10, quindi io metto 3-10. Allora. Due. No, l'una, due. Quindi, aspetta. Eh no. Ma. Ula. Ah, forse andando lì in contrario può darsi che... ...de colore giusta. Eh no, meno un quarto. Io faccio conferma, ma... ...ma non è possibile. La stessa ora degli altri orologi. Magari io sto guardando l'orologio sbagliato. Prima di andare di qua a vedere. Qua c'è... Sembra essere lo schema per un'arma. Figata. Foto tesoro. Eh, ciao, buonanotte. Chi se lo ricorda. Altra erba. Io sono pieno di erba, ma non ho fluido. Cassetto inutile. Mi ricorda Mayer su questa maschera, veramente. Eh... Fa un po' vedi. La stessa ora degli altri orologi. Io adesso vado a vedere. Intanto... ...dobbiamo trovare uno scaffale strano. Allora, qualora fa... Fa le tre è un po' più... ...di meno die... Eh, fa le tre meno dieci. Circa. Ah, qua c'è un'altra... ...porta serpente. Apri questa porta. Allora, qua c'è un pianoforte che è rotto. Allora, aprile. Oliver ha finalmente smesso di urlare, ma a volte sento uno strano picchiare dall'alto. Ah, no, c'era un'altra pagina. Andiamo avanti. Maggio. C'è troppa puzza. E c'è anche uno strano liquido che cola dal soffitto. Comunque, visto che avevo tempo, ho modificato il nuovo telecomando trofeo. Ora continuerò a brillare anche la notte. Telecomando. Telecomando. Altra erba. Oh, sono pieno di erba adesso. Non pensate male. Allora. Terzo posto. Secondo concorso, ingegneria per giovani. Mamma mia. Robotica. Ingegneria per giovani. Qua. Ok, qua c'è un altro libro. Aprile. Mamma mi ha portato all'ospedale in città. Mi hanno fatto una foto alla testa con una macchia strana. Poi mamma mi ha comprato un paso da 259 pezzi nel negozio dei giocattoli. Aprile. Oliver continua a prendermi in giro. Sei tutto matto, dice. Aprile. Ho detto una bugia ad Oliver. Gli ho detto di venire a casa per il mio compleanno. Poi l'ho chiuso nell'attico con il mio telecomando. Piangeva così tanto. Fammi uscire, Lucas. Aprile. Ho modificato il telecomando. Così, Zoe, la scema non può infilarsi nell'attico. Ho unito uno dei miei trofei delle gare di invenzione. Ah, l'ho unito con uno dei miei trofei delle gare di invenzione. Non lo troverà mai. Eh, l'altro pirletto si chiama Lucas. Ok. L'ha legato uno dei suoi trofei. Non lo troverà mai. Eh, ma io devo trovarlo però, eh. Questo non è. Da dentro? Munizioni, meno male. Allora. Ah, qua c'è un altro trofeo. No, un grimaldello abbiamo trovato. Eccolo qua. Cosa si è aperto? Dove si è aperto? Ah, si è aperto qua sopra. Meno male che ho guardato su. Mamma mia, sta casacca è piena di posti. È veramente grande. Uh, buon compleanno, una nuova cassetta. Qua c'è... Contratto d'opera di rinnovo. Cliente Jake Baker. Ditta Trevor... Mamma mia, Trevor di GTA 5, no, scherzo. Trevor e Chamberlain Construction. Durata DC novembre 1992, 30 novembre 1992. Discrizione dei lavori, installazione di una porta con rilevatore di ombre nel salone di ingresso. Ok. Oh, c'è un'ascia. E un fucile. Uh, forse ho capito. Ah no, ma forse ci serve per qualche enigma qua. Se no ho pensato di prendere questo fucile e metterlo sotto con l'altro rotto e così troviamo un kit di riparazione. Posso riparare la roba. Vediamo un po', posso fare delle combinazioni, no. Ok. Qua c'è un enigma che sarà una stronzata, scommetto. Ce l'ho fatta. Oh, ce l'ho fatta a caso, non lo so neanche io, ce l'ho fatta. Mamma mia. Oh, gli anni. Era veramente difficile. Eh, scheda blu. Oh, c'ho l'inventario pieno, porca putena. No, mi tocca tornare per forza indietro per raccogliere tutta la roba. Ok, sono tornato indietro, ci sono sempre i mostri che spawnano. Oh, mamma mia. Ho posato un po' di roba, spero di aver posato abbastanza. Dunque, qua c'erano queste cose. No, eh, questo. Ascia giocattolo. E riproduzione fucile. E poi c'era la scheda. Ok. Sembra una scheda grafica. Antichissima, ma sembra una scheda grafica. Allora, quanti spazi ho ancora nell'inventario? Uno. Quindi dopo. Ah, là c'è una bambolina. Ci arrivo con... No. Sali su, sali su. Dai. No. Non voglio sprecare un colpo del fucile. Poi non ho ancora capito... Vabbè, sprechiamo un colpo del fucile. Non ho ancora capito cosa servono le bamboline. Queste sono solo collezionabili. O alla fine ci danno qualcosa. Perché nei vecchi Resident Evil tipo c'erano... Nei vecchi, vabbè. Dal Resident Evil 4 in avanti c'erano i cosi blu. Che se li sparai alla fine non so più cosa ti davano. Adesso non mi ricordo più. Allora, qua c'era qualcosa... Da prendere? La signora è sparita, tra l'altro. Qua non c'era qualcosa da prendere, mi sembra. No, forse mi ricordavo male. No, niente. Allora. Portiamo... La... La... La, 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 come cavolo? La scheda blu. Là vicino al camper. Almeno ce la togliamo via dai maroni. No, stavolta i mostri non sono spawnati. Eh, come l'ho detto. Sono spawnati. Ok. No, no. Voglio quella blu da mettere lì. Ok, la scheda in video l'abbiamo messo. Ci manca solo più quella AMD. E per questo video è tutto. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.